no voglio subito la prima cosa è stato un primo 15 minuti o meno richieste c'è ancora un richiesto ecco qua euro che non è nella partita invita questo questo adesso scrivo non tira non tira ricompense nel senso di supporti o cazzate varie perchè sennò dopo finisce subito la partita tanto vuoi vi faccio vedere quello che ho sblocato niente di che chiamo questo emblemino della minchia sempre del match per forza ma la facca ma la facca allora ok posso scriverlo tutto ti 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 app on e f e d pass e equivocazione fare il gruppo ormai la partita parte così. Puoi essere, non era quello dei Rebels il campi forte d'Italia che c'era una volta. 2345, ma sì, ma sì. Adesso gli scrivo un messaggio prima di iniziare la partita. Ma sì, basta che non tiri su porti, aria e carica. Sì, perché se tira l'Arier c'è deve essere anche il supporto perché uno tira l'Arier così a cazzo, almeno che non è al livello che sono io. Comunque credo che al 24 inizieremo a tirare le nuche perché la nuca la sblocca al 24, almeno che uno non fa il mongolo che la sblocca a livello 7. Perché in teoria la sblocchi al 7, al 24 una la sblocchi e forse al 12 una. Condizione di merda, ora è buona. Bravissimo. Eh, boom, mi c'è un po' il problema. Ancora? No, sto scherzando. Commento di merda comunque. Vabbè, vorrei anche vedere. Questo è un pronob figlio di puttana. Dai, non puoi andare in giro con principianti, non voglio prendere un po' la tormicchia. Ce la farò prendere un po' la tormicchia. Ce la farò prendere un po' la tormicchia. Ce la farò prendere un po'? Pado me no. E' aperta. Adesso è proprio uno sfigato di merda. Allora non devo più commentare. Commentare. Ok, va bene. Doppio assist. Faremo anche qualche partita di Chad, raga, che sono anche abbastanza bravo in Chad. Devi morire. Ma che mi viene a prendere. Porca puttana. Eh, dove nasce? Eccolo dove nasce. Scommetto che nascono ancora qua. No, 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 Luca, non nascono qua, nascono di qua. Dottor che io ti voglio gli appoggiare. E ti ho anche un bel wow. Vada page. Ma stiamo registrando? Sì, eh. Ok. Che falle non ci sono. Crepano con l'MP. Munizioni dai che mi servono. Elicottero. Mi servivano le munizioni, però. Eh, lei più. Eh, no. Minchia quante richieste ci stanno inviando. Dopo giungo tutti i ragazzi, non preoccupatevi. Tu mamma lo succhiave. Tu mamma lo succhiave. Tu mamma lo succhiave. Tu mamma lo succhiave tanto forte, parapà. Figlio di puttana G18. Cecchino di merda bastardo che non muore. Adesso ti pianto la granata, stronzo. Minchia. C'è lo scar silenziato. Io non ve lo rifiuto quest'arma qua, eh. Fatti vedere. Bellissimo. Ma questo che bello. Sì, ma l'elicottero è come quello di Black Hawk, non serve un regolamento. Che sarebbe l'eli a salto. La bella è esta. Fatto. E. Ca ça... claac��. Perché? Chi ha gattirato il supporto quel grandissimo... Dai sì minchiauda, ho guardati qua non non è che ciò ma la faccia dove stava ma c'hanno scarsi iniziato sto strozzo finocchio vorrei anche vedere e non fottermi bella intanto ci vedo lo stesso si guarda quante ne stava 5 16-0 però quando tiri la nuca per cazzo non lo cancello ve lo dico non me ne è fatto un cazzo se tira la nuca lo cancello non iniziamo già secondo episodio voglio scassare il cazzo perchè ecco che palle porca puttana lo sapevo gioca così quando spari non esce quando ti fermi a sparare c'è tu se 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 il finale vediamo quantoà fatto place quanto hai fatto 28 4 sono all' societal 2 3 c capo certo super catastro interrompi